So a veglieta giornata tutti Oggi siamo accarezzati da una luminosa, breve e ecastica lirica, traboccante di velato e delizioso affetto, ed incomparabile dolcezza e melodiosa nostalgia di Maria Luisa Spaziani, traduttrice, aforista e poetessa, di sfavillante influsso montagliano e di raffinata suggestione allusiva, e metaforica, costellata di eterea e sua dente armonia stilistica e contenutistica. In questa meravigliosa e commovente lirica Maria Luisa Spaziani rievoca e ricorda, con illimitato e sconfinato affetto, la tenerezza indicibile ed indimenticabile del caro e adorato papà, che la tiene dolcemente per mano per quella strada inondata di sole dorato e di amore incondizionato e palpitante, di stupore e di gioia e di protezione rassicurante. Il tempo non è trascorso, si è semplicemente dilatato nella profondità dei sentimenti eterni, delle emozioni vehementi e nelle sensazioni vivide e piacevoli. La poetessa, per incanto, ritorna nuovamente una bambina e percepisce il calore e la forza amorevole della mano salda e gentile del papà, radice ancorata al suo cuore di eterna fanciulla e luce brillante e faro del suo destino di donna. Anche noi, cullati da un soave ricordo dell'infanzia, ritorniamo magicamente, bambine e bambini, e stringiamo affettuosamente la mano cara del nostro papà. Papà, radice e luce di Maria Luisa Spaziani Papà, radice e luce portami ancora per mano nell'ottobre dorato del primo giorno di scuola. Le rondini partivano, strillavano. Fra cinquant'anni ci ricorderai. Vi ringrazio del vostro soavissimo ascolto. Grazie. 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 Grazie.